Ciao a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video, prontissimi ad accogliere nuova gente nella casa del grande fratello VIP, come lo dico, sembra che la casa è la nostra, ma insomma parliamo di una nuova VIPona che è pronta a entrare nel programma e si era già annunciato dei tre che stanno per entrare nella casa, parlo di Davide Donadei, Nicole Muggia e Andrea Maestrelli, che entreranno a ridosso dei prossimi giorni, quindi intorno al periodo di Natale. Adesso praticamente, ma non è finita qui, perché c'è anche un altro concorrente che è stato appena annunciato e come già visto, la produzione nel corso dei mesi ha deciso di rimpolpare più volte il cast, perché alle volte si formano dei buchi e quei buchi vanno assolutamente riempiti. Oriana Marzoli, Sara Altobello, Micolin Corbaglia, Luciano Punzo, Edoardo Tavassi e Luca Onestini sono stati loro nelle scorse settimane, ma adesso sembra chiaro che Alfonso Signorini ne vuole altri sei nella casa. E parliamo di Michela Mirconi, Riccardo Fogli, Davide Donadei, Nicole Muggia e Andrea Maestrelli. Consideriamo però, dobbiamo per forza considerarlo, l'eliminazione che c'è stata della casa del cantante dei Poo e quindi ne mancava uno. Per giorni si è fatto il nome di Manuela Villa, ma non sarà lei a entrare nella casa. E allora, ma chi è che farà il debutto? La nuova ilpona è Dana Saber. Dana Saber è conosciuta molto come Dana Meskin sui social. In pratica a rivelare ciò è Alessandro Rosica e quindi Dana Saber sappiamo che è una nuova concorrente e si tratta esattamente della modella italo-varocchina conosciuta per la finta paparazzata con tanto di lingua in mezzo con Diane Mello. E insomma, si va ad aggiungere altro Pepe. Altro Pepe, ma come già detto, sembra che durante la puntata di Sabato 17 entreranno in casa l'ex tronista Davide Donadei e l'attrice Nicole Murgia. Ma come è noto, quindi già lo sappiamo, no? Lei è la sorella del calciatore, il calciatore Alessandro Murgia, che aspetta un figlio dell'ex fidanzata Vittoria Deganello. Quest'ultima, tra l'altro, è stata lasciata poco dopo aver scoperto di essere incinta. E questa non è assolutamente una bella cosa. Comunque, dopo un paio di giorni, nella puntata di lunedì 19, sarà poi la volta di Andrea Maestrelli, calciatore dagli occhi di ghiaccio e della modella Dana Saber. Con questi ultimi quattro, i vipponi della casa diventano ufficialmente 23, che è un numero che porta fortuna, no? Numero fortunato nella credenza romana, più che altro dalle zone nostre. Ma tra l'altro sembra chiaro che tra tutti loro ci sono ancora due possessori del biglietto di ritorno. Quindi, assisteremo a belle cose ancora. Io vi ringrazio per l'ascolto di questo video, di questo ultimo aggiornamento. Noi ci sentiremo ai prossimi aggiornamenti, sempre qui su Pausa Caffè. Mi raccomando, rimanete sintonizzati e lasciate un bel pollice in su. Ovviamente, se non siete iscritti, che ve lo devo dire io, iscrivetevi al canale oppure seguite semplicemente la pagina. Grazie.